Buongiorno a tutti, sono Moris Bellavista, lavoro per Ieri dei Sistemi, sono Product Manager di Gaspa. Vi ho portato un Digital Signage apprezzamento italiano, fatto tutto da noi. Sono cinque anni che lo sgruppiamo, differenza negli altri. Allora, molti software adesso funzionano che giocano in streaming, nel senso che i contenuti risiedono da un inuserver da qualche parte che non è di propria proprietà. Con il nostro software uno decide dove emettere i contenuti, in questo caso i contenuti potrebbero risiedere anche sul totem che vedete alle mie spalle. Ma è meglio utilizzare questo totem come player, quindi per riprodurre i contenuti. Ma potete tenere quindi il software in casa vostra e usare Gaspa per pubblicare su questo monitor. Siamo qui da tre giorni, siamo felici della fluenza delle persone che sono venute.